Eccolo la bicicletta Come notate, proprio per mantenere un adeguato livello di sicurezza i piloti mantengono sia una quota di rispetto con il terreno e soprattutto non se regoleranno mai i pubblici Il paramotore è una disciplina sportiva a tutti gli effetti se svolgono campionati italiani, europei e mondiali In questo caso gli atleti italiani sono tutti estremamente giovani hanno sempre ben rappresentato l'Italia in campo mondiale negli ultimi campionati a livello di squadra siamo arrivati entro le prime dieci e a livello individuale siamo classificati tra la settima e l'ottava posizione Va sottolineato che questi atleti agiscono senza alcun supporto finanziario se non quello limitato che l'aeroclip d'Italia riesce a dargli per la partecipazione alle gare internazionali però per tutto l'allenamento in corso dell'anno e per tutto l'allenamento propedeutico alla partecipazione ogni atleta deve supportare da solo le spese che servono per volare quindi si tratta essenzialmente di passione e per la partecipazione alle gare internazionali per un'attività di potenza di caldo È un sport aperto a tutti i sessi uno dei piloti che siete davvero in volo è una ragazza che naturalmente ha